Durante il Consiglio Comunale del 21 ottobre scorso si è parlato di un argomento molto sentito in città, ovvero la sicurezza, e si è discussa la proposta del consigliere d'opposizione consolato Natalino Caccamo di creare un commissariato di sicurezza, visti i sempre più frequenti accadimenti nell'agropolese. Secondo la proposta di Caccamo a comporre la commissione consigliare di controllo e garanzia, dovrebbero essere cinque consiglieri con la presenza mista anche di esperti. Il sindaco Adamo Coppola si è mostrato subito favorevole a questa proposta, anche se dovrà essere riformulata nella riunione dei capogruppo, che verrà svolta prossimamente anche con la presenza delle forze dell'ordine per decidere come verrà composta la commissione. Quindi il Consiglio Comunale, con voto favorevole all'unanimità, ha approvato il rinvio della proposta del consigliere Caccamo al prossimo consiglio, quindi dopo aver deciso la formazione della commissione, dove verrà votata e approvata, e darà ad Agropoli finalmente un organo per organizzare e garantire la sicurezza in città. Grazie a tutti.